Romina Power ha appena preso un treno che la porterà in un posto speciale, i fan non vedono l'ora di vederla. Tutti i dettagli sul viaggio e la meta. Romina Power una delle cantanti più amate e note dal pubblico italiano che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica del nostro paese. Conosciuta in tutto il mondo, insieme al suo ex marito Albano ha emozionato milioni di fan che attualmente la seguono sui social dove vanta di pia di 200.000 follower. L'artista in viaggio verso una meta speciale e sui social ha appena pubblicato una foto che ha incuriosito il pubblico, ecco di cosa si tratta. Romina Power, domani ospite in una trasmissione nota. Con un outfit stravagante, colorato e curioso, Romina Power si fatta scattare qualche foto sul treno verso Milano. Pantaloni verdi bottiglia, mocassino nero, felpa colorata e una maglia bianca con una scritta. Un paio di occhiali le mettono in risalto il suo sguardo dolce ed elegante. I fan non vedono l'ora di vederla in televisione accanto a Silvia Toffanin, conduttrice del programma in onda sabato e domenica su Canale 5. Tra i commenti qualcuno ha scritto che Poi ancora La foto Gia diventata virale, Romina Power ancora una volta ha fatto centro. Buon dolce e buona tiglia. I комментi Sai. Buon dolce. Grazie a tutti. Per il resto dobbiamo attendere la puntata in arrivo.